Allora, io sono Margherita e siamo a Cellamonte, che è un paesino del Monferrato, patrimonio UNESCO, quindi nella zona principale dell'UNESCO degli Infernot. Il paesaggio sono colline ed è principalmente vitivinicolo, ma con molte altre colture. Noi abbiamo un'azienda vinicola che si chiama La Casaccia. Sì, noi ci siamo trasferiti qui da Torino e io e mio marito agronomi e abbiamo cominciato a lavorare in campagna. Io mi occupavo, facevo il tecnico in agricoltura biologica e quindi abbiamo subito messo in conversione l'azienda. L'abbiamo fatto perché crediamo nell'agricoltura biologica come metodo di coltivazione, per il rispetto dell'ambiente, per il rispetto della salute nostra e dei consumatori, di chi consuma il prodotto e siamo contenti della nostra scelta. quindi abbiamo cercato fin dall'inizio, inizialmente forse di riportare le vigne in un stato un po' più naturale di come era condotto dagli zii precedentemente e poi di lasciare per esempio inerbito in modo naturale la vigna, lasciando anche crescere le erbe, l'erba un po' più alta rispetto al solito, quindi la tagliamo solo un paio di volte all'anno. Abbiamo visto che i tipi di erbe e di fiori spontanei sono anche diversi da ciascuna in ciascuna vigna in base all'esposizione, al terreno e quindi abbiamo trovato in alcune zone la mentuccia, in altre le orchidee, quindi è molto bello e ci piace perché crediamo che un ecosistema ricco quindi con diverse specie vegetali possa accogliere molti più insetti e molti più animali e sia un ambiente più sano, più forte, che è più in equilibrio, che può meglio anche rispondere ai disequilibri umani, cioè magari al cambiamento del clima o ai nuovi insetti che arrivano e che sono dannosi e anche avere alberi più grossi, alberi da frutto piuttosto che cescugli o siepi vicini, vicino alle vigne o lungo i porti o mantenere parti di bosco, quindi vicino nei pressi delle vigne, crediamo che sia un valore aggiunto. È un paesaggio che a noi piace tantissimo, quello come si diceva a Paso, la macchia di Leopardo, quindi dove ci sono diverse culture, diversi boschi e questo viene molto apprezzato dai turisti, ci sono molti cammini che si possono fare, un turismo un po' più lento, quindi a piedi, in bicicletta, che possa apprezzare, poi fermarsi nelle varie aziende, conoscere i produttori, conoscere come lavorano, assaggiare i vini piuttosto che i formaggi e gli altri prodotti e tutto il territorio è più vivibile, è più bello, è più pieno, è più carico, più ricco. In questo momento ci sono tantissimi fiorellini che spuntano, non ti scordare di me, le calendule, ci sono anche erbe spontanee che si possono raccogliere, che si possono mangiare, ci sono i sarset, le pampanelle che sono le foglie dei papaveri ed è bellissimo poter camminare nei vigneti o nei bordi delle vigne e poter raccogliere delle erbe da poter mangiare. Lasciando l'erba crescere in modo spontaneo, non seminando nessun altro tipo di piante e non dando concimi chimici né diserbanti, possiamo raccogliere le erbe, sono assolutamente biologiche, se naturali non hanno residui di nessun tipo. Questa è la pampanella che è la pianta del papavero e in questo stadio che ha queste foglie appena nuove, diciamo, tenere, viene utilizzata per fare un piatto tipico piemontese, i fricciulin. Abbiamo scelto di produrre vini con varietà autoctone, quindi locali, il grignolino, la barbera, la freisa e andando anche un po' controcorrente ci abbiamo creduto, abbiamo voluto valorizzare una varietà locale anche perché non andasse persa e negli anni a seguire, quindi adesso sono un po' di anni che anche altre aziende seguono questa filosofia e quindi valorizzano i vitigni locali. Grazie a tutti.